Allora Caterina, un weekend finito con una bella battaglia dopo partite di diverso segno? La Cina è una squadra molto forte, ha un doppio veloce, ha degli attaccanti laterali molto forti, proviamo ad attaccarli in battuta e questo ci è riuscito più o meno bene, abbiamo fatto degli altri in battuta, però siamo contenti, adesso vogliamo ancora bene, con un sorriso. Senti, per te un ingresso al time break dopo 4-7 senza ingressi non è neanche facile? Non è facile, la mia gamba ha ripetito, no, sono contenta di aver dato il mio contributo, dovevo un po' sbocciarmi perché è un periodo un po' difficile per me e sono contenta. Ormai è un periodo difficile? Eh, con quello che è successo a mia sorella comunque per me era un periodo fondamentale, era la squadra, non sono molto in forma sicuramente e spero di andare avanti su questa squadra. Oggi hai fatto bene però, ti sei piaciuta oggi? Sì, ho già fatto di più di testa che di fisico perché comunque ho un attacco, ho usato pallonecci e questo dovevo fare per il mio momento di forma fisica. Senti, chiaramente Lucia è una compagna di squadra ma è prima di tutto una sorella, come l'hai vissuta e come si vive in entrambe le vesti? Beh, sicuramente era un punto fondamentale per questa squadra perché era un giocatore, penso, che poteva fare la differenza e quindi abbiamo perso tanto. Io sinceramente ho una tristezza addosso, una incredibile perché d'anno scorso quello, stanno quello. Poi non è neanche una giocatrice che fisicamente non è dotata perché è particolarmente molto forte, soprattutto per il destino che deve aiutare. Che cosa ha detto lei a voi e a te? Il contrario? Beh, a me ha detto di pensare a me stessa adesso perché io ho passato veramente due giorni dopo. E ha detto di pensare a me stessa e non a lei perché adesso lei si opera domani e avrà un recupero tosito. A noi ci ha fatto un grande bocca al lupo, giustamente, ha detto che a lui mi piaccia non essere qua e non posso dire il termine per noi. Senti, ultima domanda. Il pensiero va già al mondiale o fate un giorno per volta? A che punto vi sentite? No, facciamo un giorno per volta perché è davvero tosito. Grazie.